Troppo buone i ravioli dolci della nonna, con tanta crema pasticcera super cremosa. Prepariamole insieme. Lavora la farina con il lievito, lo zucchero a velo, le uova, il burro, il succo d'arancia e il marsala. Mescola e forma un panetto e poi fallo riposare a temperatura ambiente per circa 20 minuti. Al termine, stendilo e con un coppapasta rotondo ricava dei cerchi dalla sfoglia. Poi farcisci ogni cerchio con della crema pasticcera. Richiudi, forma una mezzaluna e sigilla bene i bordi. Continui in questo modo fino a terminare tutti gli ingredienti a disposizione. Al termine, tuffa i ravioli dolci dentro dell'olio caldo e falli dorare da entrambi i lati. Cospargi con zucchero a velo e servi. Ed eccoli qui i ravioli della nonna, morbidissimi e cremosissimi. Buon appetito amici, ciao!